Buongiorno Daedo, allora faccio questa puntata in primo luogo per rassicurare tutti quelli che mi hanno visto a terra con la batteria finita ieri sera a Milano, ecco The Motion, per rassicurarli che sono vivo, sono qui, sono combattivo e sono ormai ritornato a una buona percentuale di energie insomma questo è soprattutto per te Diego, ti avevo detto che se non mi avessi visto stamattina avessi dovuto chiamare i soccorsi bene invece eccomi qui a fare la prima e anche l'ultima puntata della settimana alla faccia del daily podcast credo che fossero un paio di settimane che non facevo queste cose ma sono stato assente giustificato, settimana scorsa malato, disteso a letto questa settimana sono stato a Code Motion gli ultimi due giorni, quello prima vabbè avevo altri impegni, ho fatto il podcastino, continuous delivery, l'avete visto? chiacchiera interessante, andate a darci un'occhiata se non l'avete visto e domani sono a Verona a parlare al React JST se ci siete ci vediamo lì, tra l'altro un sacco di gente, di voi, voi ascoltatori e telespettatori che mi avete insomma bloccato e fermato lì per farmi complimenti mi fa tantissimo piacere, tra l'altro una delle cose che ho sentito più spesso è ma non ti immaginavo così alto, censuro altri tipi di epiteti ma sull'altezza insomma mi fa mi sorprendo ormai così tanto che la gente mi dica non ti immaginavo così alto che a questo punto mi sorprendo anch'io non immaginavo di essere così alto però insomma è così da quando insomma da quando sono adolescente adolescente, quindi con The Motion non sto a fare un recappone, anzi magari la faccio la settimana prossima magari ecco, settimana prossima se riesco faccio un po' di recap dell'intenso mese di eventi che ho trascorso tra ruoli da presentatore a ruoli da speaker che sono magari più impegnativi ma anche più rewarding in effetti comunque per farvi un po' partecipi anche di cosa significa stare sul palco in eventi di questo tipo la Code Motion è un evento abbastanza unico nel panorama italiano, cioè un evento dedicato al coding con 2000 partecipanti sale enormi, speaker internazionali per noi italiani, per noi speaker italiani è un po' come l'all star game degli speaker IT italiani perché dalle varie conf verticali sulle varie tecnologie a Code Motion ci si incontra un po' tutti quindi si becca un po' dal front end, dal back end, dall'AI, dalla security si mette tutti insieme e ci si incontra una volta all'anno quindi si rinsaldano amicizie, si ristringono mani insomma, ormai ci incontriamo più spesso alle conferenze di questo tipo che non al di fuori quindi sarebbe troppo lungo nominare tutti ormai gli amici perché sono anni che ci frequentiamo ecco che ho rincontrato a Milano, ma insomma fa sempre super piacere e poi anche sentire delle conversazioni incredibili in sala tra persone di esperienza decennale che hanno davvero da dire qualcosa di importante, vabbè ma sto dilungando troppo quindi sono molto contento di come è andata Code Motion anche se sono molto stanco naturalmente perché ho fatto due giorni abbastanza intensi ma domani si riparte appunto, un bel talk al React Day quindi sono pronto però mi preparerò ancora un pochino oggi se ci siete, ci vediamo lì e ora direi che parto con le news di oggi non ho avuto tantissimo tempo di studiare quindi ho preso un paio di robe che in realtà hanno colpito me e mi interessano quindi spero che interessino anche a voi allora partiamo da una cosa che mi interessa particolarmente che è la sicurezza delle mie password insomma le mie password sono su 1Password questo lo posso dire perché sono abbastanza sicuro che pur dicendo dove sono le mie password queste rimangono in sicurezza perché di 1Password mi posso fidare insomma mi fido è una fiducia ben riposta? spero di sì ma ecco 1Password mi ha appena annunciato insomma mi ha appena comunicato che ha sofferto un incidente di security un incidente di sicurezza che però non ha intaccato i dati degli utenti i volti degli utenti ma tutt'altro insomma una parte amministrativa ma andiamo con ordine tra l'altro perché parlo di questo in particolare non solo perché mi interessa ma perché se vi ricordate avevamo parlato dei breach di LastPass ormai l'anno scorso poi in realtà si sono trascinati per un po' di mesi e 1Password l'avevo invece identificato come l'alternativa virtuosa quantomeno nella comunicazione perché 1Password in effetti anche in questo caso si è distinta per la comunicazione dell'incidente anche per come l'ha riportato per la dovizia di particolare con cui l'ha riportato e quindi comunque nonostante anche 1Password abbia subito il suo primo incidente di fatto di questo livello nella sua storia a differenza di LastPass che mi aveva subito un pochino e questo mi ha anche portato alla migrazione ma anche ho apprezzato il livello di dettaglio della comunicazione quindi vado un po' con ordine c'è questo security breach in 1Password e la comunicazione avviene il 23 ottobre quindi tre giorni fa oggi è 26 ottobre quindi vado a prendere l'articolo di Bleeping Computer invece del blog post ufficiale di 1Password così andiamo un po' a sintetizzare quindi si dice che 1Password ha sofferto questo incidente di sicurezza attraverso l'accesso all'Octa ID Management Tenant e quindi il comunicato ufficiale dice che hanno rilevato dell'attività sospetta relativa all'istanza Okta collegata al support system quindi al sistema di supporto di ticket quindi dopo un'investigazione hanno concluso hanno stabilito che nessun dato di utenti di 1Password è stato compromesso è stato acceduto e questa attività sospetta è stata rilevata il 29 settembre ed è stata attività che si è verificata sull'interfaccia amministrativa per i dipendenti di 1Password quindi tutta una parte gestionale e amministrativa dell'azienda non quella che riguarda i vault, le password e i sistemi per gli utenti per i clienti di 1Password e quindi poi hanno concluso che non c'è stata compromissione dei dati degli utenti ma facciamo un attimino un passo indietro perché qua si parla di Okta e Okta in effetti è stata oggetto di un security breach piuttosto significativo comunicato qualche giorno prima il 20 ottobre infatti risalgo la catena rimango su Bleeping Computer e vado a vedere che c'è appunto l'annuncio di un security breach in Okta attraverso il furto di credenziali degli utenti che sono gli user credentials quindi in questa timeline insomma si arriva al 20 ottobre e c'è Okta che va appunto a comunicare che degli attaccanti hanno acceduto dei file che contengono cookie e session token che sono stati caricati dagli utenti nel sistema di support management quindi nei ticket in pratica dopo aver ottenuto accesso a questo quindi cosa si inizia a capire che qualcuno ha rubato delle credenziali del supporto tecnico di Okta e attraverso queste credenziali è riuscito ad accedere a file caricati da clienti di Okta che hanno dato al supporto tecnico delle informazioni sui loro problemi quindi caricandogli dei file che contengono cookie e session token ora faccio un ulteriore passo indietro innanzitutto che cos'è Okta che magari non tutti sanno che cos'è Okta Okta è un'azienda un'azienda molto grande che fornisce molti servizi relativi alla gestione degli account delle identità e degli accessi dei login insomma tra i suoi prodotti si trovano appunto servizi per la multifactor authentication per l'authenticazione passwordless per il single sign on insomma sono quelli di OutZero oggi OutZero è parte di Okta dell'offerta di Okta quindi insomma anche per servizi cloud per la gestione delle identità in cloud insomma molte aziende si rivolgono a Okta hanno servizi Okta che gli aiutano a gestire la loro infrastruttura la loro offerta per appunto la gestione delle identità e dei login quindi Okta è questo appare sul blog di Okta il 20 ottobre un post dove si va appunto a fare disclosure di questo security incident dove ripeto quello che un po' avevamo capito da Bleeping Computer cioè che degli utenti dei clienti di Okta hanno caricato dei file per il support insomma per il supporto insomma per il supporto tecnico e questi file cosa sono? sono degli http archive degli har H-A-R sono quei file che voi potete generare da per esempio da Chrome dai Chrome Dev Tools che contengono tutti i log di una connessione e questi log insomma servono al supporto tecnico per capire cosa è successo in caso di problemi il problema è che questi log contengono molte informazioni sensibili perché ci sono anche i cookie di sessione eventuali session token e quello che appunto può usare poi un attaccante rubandole per avere accesso poi a dei servizi quindi cosa fa in questo caso cosa ha fatto un attaccante è riuscito ad accedere a questo supporto tecnico rubando in maniera non meglio definita le credenziali di un impiegato di un dipendente di Okta e una volta ha avuto accesso a questo sistema è andato a carpire alcuni di questi file pieni di questi log con password con credenziali sensibili insomma e poi ha utilizzato queste credenziali per andare ad attaccare invece tutti questi altri clienti di Okta compromessi da questi file da questi file contenenti dati sensibili dice nel blog ufficiale poi quindi di Okta si dice insomma che Okta raccomanda ai propri clienti di sanitizzare le credenziali e i session token i cookie di questi file AR prima di caricarli di sharearli di condividerli con il supporto tecnico poi fornisce una serie di indirizzi IP che sono potenzialmente riconducibili a questo attaccante insomma per aiutare potenziali insomma vittime a mitigare questi danni questa è la comunicazione di Okta non è diciamo molto più esaustiva non ce ne sono di successive quindi questo al 20 ottobre è l'ultima comunicazione ufficiale di Okta riguardo questo incidente però sappiamo noi che ci sono molti in realtà clienti compromessi e lo sappiamo perché un paio hanno cominciato oltre a OnePassword a cui adesso torniamo qualche giorno prima altri avevano fatto disclosure di incidenti collegati a Okta si parte da Beyond Trust che è un servizio di identity management che ha appunto comunicato di essere affetta da questo problema il security team di Beyond Trust ha rilevato e ha bloccato dei tentativi di fare login su un administrator account di Okta il 2 ottobre usando appunto un cookie rubato da uno di questi file e prosegue Beyond Trust dicendo che hanno contattato Okta e gli hanno dato dell'evidenza che questo problema era riconducibile al furto di dati proprio da questi file ma Okta ha impiegato due settimane per confermare il breach e quindi si parla del 2 ottobre il 20 ottobre la comunicazione ufficiale di Okta poi Beyond Trust prosegue dicendo che delle limitazioni nel modello di sicurezza di Okta hanno diciamo permesso agli attaccanti di fare alcune azioni confinate però confinate anche dall'intervento dei tecnici di Beyond Trust comunque la compagnia ha tranquillizzato i suoi utenti i suoi clienti dicendo che i dati dei clienti non sono stati non sono stati impattati dopo Beyond Trust un'altra compagnia è andata a segnalare che un proprio incidente di sicurezza è stato correlato al breach di Okta ed è Cloudflare che il 18 ottobre ha annunciato di avere subito un attacco di questo tipo che anche in questo caso non ha evidentemente intaccato dati degli utenti dei clienti di Cloudflare ma soltanto parti amministrative e quindi dice Cloudflare gli attaccanti hanno utilizzato un token di autenticazione preso proprio dal support system di Okta per entrare dentro le istanze Okta di Cloudflare e aprire delle sessioni con privilegi amministrative quindi questo è un po' come si conclude il report di Cloudflare poi l'articolo di Bleeping Computer conclude con un riferimento a alcuni altri incidenti di sicurezza avvenuti proprio su Okta negli ultimi due anni torniamo quindi a OnePassword e il post in cui OnePassword va a fare disclosure di questo security incident è piuttosto dettagliato uso ancora Bleeping Computer per avere un sommario insomma una sintesi di quello che è successo un membro del OnePassword team ha aperto un ticket con Okta per dei problemi e gli ha dato gli ha fornito un file HTTP archive che è stato creato appunto dai Chrome Dev Tools poi sappiamo che questo file è stato compromesso e l'attaccante è riuscito ad accedere a OnePassword dai sistemi amministrati di OnePassword ma come ha fatto qui c'è un po' di dettaglio in più fornito da OnePassword e quindi l'attaccante ha provato ad accedere alla dashboard degli impiegati dei membri del team IT di OnePassword ma questo accesso è stato bloccato inizialmente da Okta a questo punto quindi l'attaccante cosa ha fatto ha aggiornato l'IDP cioè l'identity provider di Okta collegato appunto al cloud google all'ambiente google di OnePassword ha attivato questo IDP e appunto ottenendo quindi questi privilegi ha richiesto un report una lista di utenti amministrativi questa richiesta è stata rilevata dal team di OnePassword quindi il team ha il 29 settembre quindi ancora prima dell'arrivamento di BeyondTrust si accorta di questo di questa azione perché alcuni membri hanno ricevuto una email sospetta appunto con la richiesta di questa lista di utenti amministrativi che apparentemente non era stata richiesta da nessun impiegato di OnePassword e questo report conteneva una lista di admin quindi degli utenti amministrativi a quel punto poi hanno controllato hanno rotato tutte le chiavi hanno controllato che non ci fosse compromissioni sui sistemi degli utenti dei clienti di OnePassword e hanno poi concluso che l'attacco era stato confinato a queste azioni hanno naturalmente riportato il tutto a Okta e lì si è messo in moto insomma il meccanismo che poi abbiamo riportato prima quindi io per adesso chiudo qui questo capitolo non ci sono al 26 ottobre notizie ulteriori se ne arriveranno però seguiremo con attenzione perché si parlava di più di un centinaio adesso leggendo un po' di articoli in giro ho trovato riferimento a più di un centinaio di clienti Okta compromessi da questo attacco finora però ne sappiamo tre sappiamo di OnePassword appunto di BeyondTrust e di Cloudflare che sono anche parecchio grossi perché come dicevamo i clienti di Okta sono clienti di questo tipo clienti piuttosto grossi chi saranno gli altri centinaia di clienti ce ne saranno altri ancora più grossi è confinato qui il danno di questo attacco o si estende ancora di più io presterò attenzione magari poi ne riparleremo allora chiudo questo podcast con una notizia particolare strana penso che sia la prima volta in questo podcast che nominiamo Papa Francesco sì perché mi è capitato sotto il naso un articolo di BBC News dove che è intitolato così Papa Francesco incoraggia più bambini a scrivere codice specialmente nei paesi cattolici e allora mi ha incuriosito naturalmente questo articolo con poi l'immagine di apertura del faccione di Papa Francesco che apparentemente non lo so sta incoraggiando un bambino a scrivere codice leggo il contenuto dell'articolo che è apparentemente firmato Shona McCollum che è una technology reporter e insomma parte descrivendo il progetto di questo di questo imprenditore delle tecnologie polacco che vuole portare più bambini a scrivere codice che è stato apparentemente endorsed quindi insomma è sostenuto da Papa Francesco questo imprenditore polacco è Miron Mironiuk che è il fondatore della compagnia di intelligenza artificiale Cosmos AI e che dice che CodeWePop quindi questo è il nome dell'iniziativa CodeWePop Porterà insomma Bridge the Gap degli Spire vabbè comunque leggo un po' di questo articolo e mi rendo conto che in realtà è un comunicato stampa palesemente scritto dall'ufficio stampa di questo Mironiuk e che parla un po' dei problemi dei paesi in cui i bambini non sanno scrivere codice bisognerebbe che più bambini scrivessero codice bla 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 ma la mia curiosità partendo da questo articolo era capire dov'è il coinvolgimento del Papa cioè io voglio vedere il Papa dov'è dov'è il Papa che incoraggia a scrivere codice io in questo articolo non l'ho trovato e allora ho fatto un po' di ricerca no? parto innanzitutto dal sito ufficiale di CodeWePop che esiste è CodeWePop.com tra l'altro è disponibile anche in italiano perché figurati è disponibile in italiano spagnolo polacco e inglese cosa ha comune queste lingue secondo voi vediamo se lo capite e insomma questo sito si apre con impara a programmare gratuitamente perché scopro che questa iniziativa scopro vabbè se l'ha già capito anche dal comunicato comunque questa iniziativa è una serie di corsi di formazione rivolte ai bambini gratuiti per appunto imparare a programmare il problema è che qua corsi non se ne vedono nel senso che dal sito non si può accedere direttamente a questi corsi bisogna iscriversi c'è insomma un form per iscriversi e a questo punto immagino che si abbia accesso a dei corsi che non non si capisce in che formato siano sono dei video sono degli esercizi non lo so ci sono delle perché l'immagine che si vede le foto le fotografie che si vedono è questo ragazzo che è 33 anni imprenditore polacco davanti a una classe di bambini che gli apparentemente fa lezione di coding peraltro se state anche guardando questo podcast vedete che questo sito in alto c'è questo fastidiosissimo banner con iscriviti ora ripetuto all'infinito che scorre da destra verso sinistra perché? perché? insomma il punto rimane dove è il papa? c'è code with pop nel comunicato non ho trovato dove è il papa in questo sito non trovo il papa di nuovo perché trovo corsi di formazione rivolti ai bambini ma non trovo il papa quindi vado ancora più indietro trovo che c'è una google drive dove c'è il comunicato stampa quindi ecco che vado a aprire il comunicato stampa è praticamente quello che è stato scritto dalla BBC e ancora non trovo si parla ancora del papa che supporta questa roba ma di fatto concretamente il papa qua non lo trovo addirittura sono andato a trovare il media kit di questo code with pop dove ci sono semplicemente le foto dell'imprenditore ancora a scuola che insegna ai bambini e che parla apparentemente ad eventi e ancora il papa non lo vedo e trovo però dove verrà presentata questa iniziativa e questa iniziativa verrà presentata a un in un evento una conferenza che si svolge anzi che si è già svolta in realtà che era il 22 25 ottobre a Castel Gandolfo in Vaticano che questa questa iniziativa si intitola is this the end of humanity or a revival e tra l'altro humanity ci sono evidenziati a e i giusto per farvi capire di cosa si sta parlando tra l'altro questo sito è molto accattivante dove c'è in questo in questa grafichetta dove c'è il un versus cioè da una parte ci sono tre tizi tra cui l'imprenditore polacco e dall'altra parte c'è il cardinale Parolin segretario di stato vaticano poi c'è non so per quale motivo ma c'è Lucio Angelo Antonelli che è il direttore dell'osservatorio astronomico di Roma dell'INAF insomma dovreste conoscerlo e poi il professor Christophe Meissner che è un che non onestamente non conosco e tra l'altro premendo c'è un video apparentemente quindi premendo play su questo su questo sito mi aspettavo non so un incontro un filmato dell'incontro tra queste persone apparentemente immagino che sia la visione cattolica contro la visione scientifica sull'AI una cosa del genere e vado a finire invece su un video su YouTube di una specie di cortometraggio realizzato dalla intelligenza artificiale caricato sei mesi fa su YouTube dove degli alieni arrivano sulla Terra e in pratica da quello che ho capito insomma arrivano queste astronavi aliene sulla Terra e sterminano l'umanità la sterminano completamente perché appunto l'umanità inquina l'universo insomma è un potenziale pericolo per l'universo e quindi questi alieni sterminano l'umanità dicendo che adesso la Terra avrà una seconda possibilità e quindi rinascerà la vita in formato migliore quindi è un sito da un play esattamente sopra la testa del cardinale Parolin si finisce su un cortometraggio dove l'umanità viene sterminata io non so se il cardinale Parolin ha visto e ha approvato questo tipo di messaggio ma comunque questo è un evento è una conferenza insomma dove ci sono questi ospiti che parlano evidentemente di intelligenza artificiale e cose e lo fanno nella residenza papale di Castel Gandolfo ma di nuovo io vi giuro il papa qua dentro non ce l'ho trovato ho trovato certo il cardinale Parolin però il papa apparentemente non prende parte direttamente a questa conferenza soprattutto non scrive codici con i bambini quindi Code with Pop è una bugia non non bambini se vi state scrivendo questi corsi sperando di scrivere codici in per programmi con il papa sappiate che non è così non c'è il papa in questo Code with Pop non c'è il pop e non so peraltro neanche se davvero il papa abbia contezza di questa iniziativa se l'abbia davvero supportata in qualche modo perché nel sito dell'evento dove apparentemente questo questo corso viene sponsorizzato viene presentato è stato presentato il papa non c'è nel sito ufficiale di Code with Pop il papa non c'è nel comunicato pubblicato dalla stessa BBC che si intitola il papa Francesco incoraggia i bambini e il papa Francesco non viene mai nominato se non per dire quanto ci tenga alla programmazione perché evidentemente ci tiene alla programmazione ma l'aveva già detto qualche anno fa va bene però ripeto qua siamo di fronte a un imprenditore polacco che sfrutta il nome del papa per non so per dare ai bambini cattolici parole sue corsi di formazione gratuita in informatica va bene insomma sono un po' cinico alla fine magari è un'iniziativa bellissima dove tanti bambini potranno avere accesso a corsi di formazione gratuiti che gli aiuteranno nella loro carriera informatica grazie a questo imprenditore polacco che ha che ci tiene tra l'altro sempre a essere sottotitolato come il fondatore di Cosmos che è una start up unicorn peraltro in molti posti viene anche specificato il valore di questa start up che tipo qua viene valutata a 500 milioni di dollari comunque questo era un po' quello che volevo dirvi riguardo a questa iniziativa che ne so così è dai chiudiamo qui grazie per avermi seguito settimana prossima cercherò di essere un pochino più costante c'è comunque un giorno di festa quindi non riuscirò a fare la cinquina però insomma ci provo cercherò di essere un pochino più costante adesso che il volume degli eventi diminuirà un pochino la frequenza diminuirà un pochino quindi insomma magari online ecco in podcast sentirete più spesso il mio vociole grazie di nuovo e noi ci vediamo alla prossima ciao